amici buonasera buon pomeriggio buongiorno siamo venuti al cotto inglese che conoscete tutti perché è a livello mondiale comunque internazionale e andiamo a vedere un po all'interno come questo centro commerciale anche perché qui all'interno ci sono vari negozi soprattutto quella della Nespresso ed è l'unico che vende Nespresso su Tenerife Nespresso qui a Tenerife ragazzi corte inglese guardate che edificio pazzesco veramente super andiamo a vedere che negozi troviamo non troverò George Clooney però Nespresso perché non ti basto io andiamo hai visto cosa c'è qua per gli amanti dell'americanate già sono passata davanti a tutta la pastelleria che hai fatto vedere già mi sono sentita male vabbè però è male nel senso vabbè ho capito ma sai che Google che mi fanno noi questo caffè però anche no no però da Starbucks che ovviamente è una catena statunitense nata a Seattle non c'è solo il caffè espresso c'è anche quello con il cioccolato ci sono gli smoothies quindi io potrei anche andarci devo dire la verità beh io per adesso direi che adesso vado a contare andiamo a correre il caffè con lo buono olle comprato l'espresso secondo me ci sarà qualcuno che dirà che schifo l'espresso non è buono a noi piace tantissimo piano superiore puoi comprarmi un paio di occhiali compriamo un paio di occhiali ragazzi qua c'è di tutto sunglasses prada raivan ralph versace di tutto guardate quant'è ragazzi veramente enorme veramente enorme questo centro commerciale facciamo un giretto guarda qua carolina Herrera guarda che e confezioni per Pasqua è vero perché domenica prossima è Pasqua molto bene altro regalo qua si è sempre una situazione di regali qua tutti i regali vuoi un profumo di CK? vuoi un profumino di CK? no no non ti piace? no ragazzi comunque se state cercando un posto dove trovare qualsiasi cosa sicuramente centro commerciale e corte inglese è esattamente quello che fa per voi c'è veramente di tutto e questo è uno dei tuoi posti preferiti eh ma guarda che belle cose ti piace Swarovski per caso? nooo c'è tutto Swarovski bella ragazzi eh sì forse è Michael Hors comunque a prescindere comunque c'è da perdersi qua devo dire la verità che c'è per tutti i tipi quindi dalle signore dalle donne sportive a quelle un po' più sofisticate c'è proprio di tutto sì veramente the best questo posto ragazzi ciao ciao nel frattempo tu stai guardando e girando dove siamo nel reparto uomo via me ragazzi ottavo piano tutto uomo cioè ma proprio qualsiasi cosa ragazzino adulto camicie magliette pantaloni hanno delle fantasie di camicie veramente belle adesso mi sa che proviamo a vedere se trodò una camicia carina intanto comunque stiamo facendo ciò pizze nespresso non si diceva dentro qua però non è un regalo tommy lui fa i suoi giri viaggia poi alla fine comprerà qualcosa ma non lo so il maglione a tenerife mi sembra un'ottima cosa il finger ti piace maglioncino per quando fa freschino quando andiamo alla laguna da quelle parti lì no e adesso vediamo una camicia maglione no ecco ecco guarda subito siamo al piano dell'uomo e lei si annoia no posso fare un giro io ogni tanto ti sei annoiato a quello della donna non mi sono annoiato non è vero andiamo su cinque minuti è stato un giro mamma mia adesso andiamo alla caffetteria ho bisogno di bisogno di ristoro si abbastanza è vero con te per forza mi danno tutti i ragioni già lo so che fatica ragazzi ragazzi non poteva mancare il piano tecnologia computer telefoni apple samsung televisori di tutto di più ragazzi qua veramente vi perdete in questo centro commerciale settore casa è giustamente subito la pentola cucina per comprare una pentola per cucinare piatti leggeri ci vuole una pentola anche a dente ad hoc giustamente comunque ragazzi c'è tutto un piano dedicato alla cucina e alla casa veramente top ragazzi che dire su giù destra sinistra cinque piani sei piani sette piani otto piani abbiamo fatto l'otto di sera e notte quasi va bene ci siamo comprati le cose che ci servivano abbiamo fatto un po di shopping esatto consigliamo a tutti quelli che non vogliono perdersi un negozio qui un negozio lì un negozio là di venire al centro commerciale corte inglese e trovano tutto c'è anche all'interno il supermercato e ci sono anche cose da comprare come come avete visto praticamente aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21 ora era continuato esattamente quindi ragazzi se non sapete dove andare a fare il vostro shopping corte inglese santa cruz e tenerife e siete a cavallo